A nostra redazione, nuove prospettive per l'accesso al credito per le piccole e medie imprese arrivano dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio dello scorso luglio. Ce ne parla Maria Eliana Mele. L'accesso al credito è sempre stato un punto dolente per le piccole e medie imprese, soprattutto quando la crisi ha stretto le maglie dei finanziamenti bancari. Con la ripresa economica in atto, quanto mai necessario per gli imprenditori e gli artigiani ottenere quel plafon per mantenere attiva la produzione. In tal senso, una nuova linfa per le piccole e medie imprese Emiliano Romagnole arriva dall'assestamento di bilancio approvato dall'Assemblea Legislativa che ha colto le istanze avanzate da Confidi in Rete Emilia Romagna, il Network di Confidi Minori, che associa 11 organismi di garanzia che rappresentano 40.000 piccole e medie imprese con un volume di finanziamenti garantiti di circa 250 milioni di euro. Noi siamo solo uno strumento che le aziende possono scegliere di utilizzare o di non utilizzare. non siamo noi che eroghiamo i finanziamenti, noi diamo le garanzie alle banche, noi siamo partner anche delle banche, siamo l'anello di congiunzione e i soldi che la Regione metterà o ha messo a disposizione, che sono magari non spesi, da adesso noi potremo veicolarli alle piccole e medie imprese perché i soldi sono destinati alle piccole e medie imprese, non sono destinati a noi. Il tutto a tassi vantaggiosi. Mediamente i tassi che l'azienda riesce a ottenere vanno dal 2 al 3%. Finanziamenti che coinvolgeranno tutti i settori e una iniziativa a valenza strategica ha spiegato il Presidente regionale di Union Camere, Alberto Zambianchi. Parliamo del 96% di 427.000 imprese, quindi una realtà importantissima che è stata colpita durissimamente dalla crisi perché quando si parlava fra il 2007 e il 2014-15 di credit crunch, cioè del fatto che le banche non finanziassero più le piccole imprese a partire da certi settori come l'edilizia in cui le cose sono state veramente tragiche, questa è tutta l'info vitale che tornerà a sostenere le imprese.